Sono Alberto Locatelli, faccio parte della redazione di Viti in Campagna, il mensile che si occupa di agricoltura pratica e ambiente dell'edizione di Informatore Agrario. Sono giornalista qui all'Informatore Agrario da diversi anni, sono appunto giornalista professionista e mi occupo in redazione di alcune specifiche rubriche, in particolare quella di orticoltura, di giardinaggio, di frutteto e anche quella di cultura contadina e poi quando serve mi occupo di tutto ciò che riguarda appunto la rivista. In questi ultimi anni le cose sono cambiate e anche molto direi, soprattutto in questi ultimi 10-15 anni. Le fonti di informazione che arrivano a tutti, come sappiamo, ci bombardano dalla mattina alla sera la nostra testa. Il nostro compito appunto come rivista è quello di saper cogliere le informazioni giuste e di dare sempre le informazioni giuste al nostro lettore, al nostro abbonato, in quanto anche l'abbonato ha modo di cogliere, di pescare informazioni attraverso il web, come sappiamo, ma pure lui può trovarsi in alcuni casi in difficoltà nel sapere quali sono quelle giuste oppure quelle invece che non lo sono, le famose fake news. Di conseguenza in questi ultimi anni, come dicevo, anche noi come redazione stiamo molto attenti a verificare le fonti. Dietro una lavorazione di un articolo ci sono ore e ore di lavoro, non solo del giornalista stesso, ma di tutta la redazione, della direttrice, della correttrice Bozze, ci avvaliamo del lavoro delle nostre segretari, quindi è un lavoro che in questi ultimi anni è diventato molto molto più impegnativo, oserei dire. Non è che in passato lo era meno, ma in questi ultimi anni stiamo molto attenti a questo aspetto, quello della fonte delle notizie e delle informazioni. Il valore aggiunto sicuramente è la nostra storia. EDIA Group, l'informatore agrario, una casa editrice storica fondata nel 1946 che si occupa di agricoltura sia professionale sia amatoriale a 360 gradi. Il nostro valore aggiunto è sicuramente la serietà e i nostri collaboratori che ci forniscono volta per volta, settimanalmente per quanto riguarda l'informatore agrario, mensilmente per quanto riguarda i viti in campagna, articoli eccellenti e dal punto di vista tecnico e scientifico ottimi. Quindi il nostro valore aggiunto è la serietà dei nostri collaboratori. EDIA Group è una casa editrice di riferimento per quanto mi riguarda e per quanto riguarda anche i nostri lettori. Parlo nel particolare dei lettori di viti in campagna. È una casa editrice importante, di cui sono fiero di far parte. EDIA Group EDIA Group EDIA Group Grazie a tutti.